buongiorno benvenuti in mio canale recentemente mi è stato chiesto se con cantate a fosse possibile aggiungere degli effetti audio effetti visivi per dire se fosse possibile schiarire oscurire un video e io un po troppo rettolosamente risposto che non era possibile in realtà invece è possibile non solo fare questo ma si può fare anche molto altro con i visual effects di cantate questa è la versione cantate a 2020 attualmente c'è invece la versione 2022 che sicuramente più evoluta di questa per aggiungere dei file che possono essere video immagini o audio si va su qui su import media su cantate oppure si va su ctrl più i e si importa si apre esplora file e si selezionano i video da importare il video ovviamente anche immagini e anche audio portiamo subito nella timeline un video di test e assoluto prima di passare agli effetti visivi che il visual effects e dobbiamo vedere quello che si può fare direttamente senza andare negli effetti qui si può scalare il video cioè rendere più grande più piccolo si può introdurre l'opacità e si può anche modificare l'audio cioè aumentare o diminuire il volume dell'audio dunque la cosa più interessante è l'opacità se io infatti inserisco un altro video sotto questo per esempio come vedete si vede soltanto quello sopra ma se io seleziono quello sopra vado qua sull'opacità e diminuisco l'opacità cioè aumento trasparenza ecco che si vede sia quello sopra sia quello sotto quindi serve per diciamo di fondere in trasparenza due video e questo è il primo effetto che è un effetto visivo anche se non è presente negli effetti visivi questo caso riportiamo l'opacità normale e andiamo su visual effects per vedere che cosa si può fare per vi faccio vedere tutti effetto border si aggiunge un bordo altrimenti diminuiamo un po la dimensione ctrl e rotellina per farlo vedere meglio si seleziona il video si va qua su destro del mouse add to select media oppure si può direttamente spostare sul clip questo effetto si vedrà qua su properties il border l'effetto border con il colore questo caso bianco e lo spessore un pixel chiaramente non si vede neppure quindi mettiamo magari colore rosso più evidente e come come spessore mettiamo 50 pixel che in massimo si va su invio ecco che si vede subito il bordo naturalmente che cosa serve questo serve se magari vogliamo inserire un un bordo un video con un bordo sopra un altro andiamo su media spostiamo lo stesso video di prima ed ecco che noi possiamo per esempio selezionare il video di sopra posizionarlo in un certo punto e quindi noi abbiamo posizionato un video con bordo sopra un altro video adesso eliminiamo questo video sottostante postiamo in basso quello di sopra eliminiamo il bordo e passiamo a un altro visual effetto cioè clip speed come c'è la parola stessa della velocità della clip aggiungiamola al media selezionato ecco qua si vede clip speed di default è 1 naturalmente se noi andiamo per esempio su 4 la lunghezza della clip che è 20 secondi diventerà la quarta parte cioè più o meno 5 secondi 4 invio ecco fatto e allora naturalmente la velocità chiaramente bisogna tornare qua e mettere la scala ovviamente al 100 per cento ecco fatto e come vedete la velocità è molto più elevata invece di mettere 4 posso mettere per esempio 0,5 4 e allora sarà più lenta di due secondi e mezzo abbiamo vado su invio come vedete è molto più lunga prima di 20 secondi adesso di 54 come vedete adesso abbiamo creato uno slow motion togliamo clip speed color adjustment questo per modificare colore che è quello che mi era stato chiesto si può gesto il mouse ad select media oppure si può spostare direttamente e verrà aggiunto qua questo effetto color adjustment con luminosità contrasto saturazione e isine is out che sono il punto di inizio e il punto di fine dell'effetto dunque brightness chiaramente la luminosità io posso diminuire la saturazione invece colore questo caso la saturazione 0 quindi come vedete il bianco e nero se invece aumenta la saturazione aumenta anche il colore questo è il contrasto diminuisco io posso diciamo così adattare questi questi valori per aggiungi per trovare la migliore soluzione rispetto alle mie esigenze se io metto per esempio questa è adesso vi faccio vedere posso spostarlo che deve farlo diventare bianco e nero mettendo la saturazione a 0 a 0 io posso impostare is in per esempio a tre secondi per secondi e 30 e is out a tre secondi più o meno e 50 e 40 cosa vuol dire vuol dire che fino a tre secondi e 30 la clip sarà come era originariamente a tre secondi e 30 invece diventerà di colore bianco e nero e così succederà all'inverso a 3 secondi e 40 dalla fine vedete adesso piano piano ecco una specie di frame rate frame rate un po' meno sofisticato che adesso è bianco e nero e poi alla fine del bianco e nero diventerà colorato perché ho appunto impostato is out a 3 e 40 anche in questo caso eliminiamo color adjustment passiamo a color tinte questo è un molto poco interessante secondo me non ho capito bene eppure attualmente se vi si va su add to setter in media qui ci sono due tinte una di colore chiaro una di colore scuro che si possono ovviamente modificare su base di un ampio il verde e questo scegliamo il blu ecco fatto e qui vengono raggiunte delle sinteggiature che si può impostare l'intensità e la desaturazione e ovviamente c'è l'is in e l'is out che funziona come abbiamo visto in precedenza stiamo eliminando colorate coraggio c'è più semplice vado a dire aggiunge un colore un colore soltanto destro il mouse ad select media e aggiunto questo caso il colore verde ma possiamo scegliere per esempio altro colore questo giallo aggiunto il colore giallo però con un aggiunta del certo per cento noi possiamo diminuire e quindi aggiunge una tonalità gialla di un certo livello questo magari quasi interessante in alcuni progetti eliminiamolo device prime che faccio vedere adesso il mouse ad select media il video viene visualizzato dentro un modo qui si può scegliere desktop poi c'è iphone e si vede dentro un iphone poi si può scegliere anche il macbook pro si vede dentro un macbook pro e poi si può scegliere su google pixel poi c'è anche download mode per selezionare altri device e chiaramente si apre la pagina di camtasia in cui si possono scaricare altri device però questi sono già interessanti magari per l'utente medio eliminiamo drop shadow drop shadow significa aggiungere come dice la parola stessa dell'ombreggiatura l'ombreggiatura non può essere aggiunta a un video naturalmente bisogna aggiungerla a una immagine quindi andiamo su media aggiungiamo un'immagine un'immagine ovviamente in png questa è l'immagine l'immagine è posizionata qui in questo punto chiaramente possiamo poi ridimensionarla riposizionarla posizionavola qua per aggiungere una ombreggiatura si va su appunto visual effects e si trascina drop shadow su questo su questa clip su quella clip dell'immagine in png ecco fatto qui c'è nell'opzione drop shadow possiamo impostare la posizione in questo caso è in basso a destra un angolo di 315 gradi oppure per esempio in alto a sinistra sulla sinistra sulla destra se ovviamente c'è con la posizione certale non si vede niente perché l'ombra è nascosta dalla immagine scegliamo di default quella in basso a destra qui possiamo impostare il colore questo caso è il nero ovviamente di default possiamo però scegliere un altro colore per esempio rosso e possiamo impostare anche l'opacità scegliamo il nero così si vede meglio se lo possiamo 7 significa lo spostamento della ombra vedete questo caso ho scelto in basso a destra quindi lo spostamento scegliamo uno spostamento piuttosto importante per rendere più chiaro il resto opacità naturalmente se lo metto a 0 verso 0 si vede poco l'ombra se lo metto al massimo si si vede proprio l'ombra in maniera praticamente molto definita e la sfogatura stesso discorso qui vedete si sfocano se lo metto a 0 è proprio in maniera definita si metto blu a 0 l'opacità al massimo si vede proprio l'ombra come maniera perfetta chiaramente però è poco realistica quindi bisogna fare in modo che diventi più realistica e così che in questo caso c'è is in e is out che funziona come avevo fatto vedere prima quindi non lo stiamo a guardare ulteriormente andiamo sul cat eliminiamo questa immagine e passiamo a globo glo che è una specie di luminescenza testo del mouse seleziona testo del mouse atto seletter media questa è una specie di luminescenza incandescenza se volete questo è sono gli parametri di globo il raggio intensità e veramente is in e is out eliminiamo poi c'è remove ecco che una specie di chroma key anzi si può dire un green screen chroma key andiamo su media spostiamo una clip sopra a quella questo momento che si vede questo momento naturalmente quella sovrastante nasconde quella sottostante però noi possiamo andare su visual effect e si può rimuovere un colore se il colore è che lo sfondo è omogeneo si può rimuovere tranquillamente si aggiunge alla clip sovrastante in questo modo poi si va qua sul rimuove color si va sulla freccetta seleziona il selettore di colori si clicca sullo sfondo il tac viene eliminato lo sfondo e quindi l'immagine viene visualizzata con il video nello sfondo al posto del video vedete che c'è la presidenza naturalmente possiamo selezionare qua e riposizionare come ci fare questo video sovrastante e qui ci sono vari aspetti c'è per la tolleranza vedete se non viene perfetto la morbidezza la tonalità che fring che non ho capito bene che sia si può anche invertire se si inverte succede un casino accoglie viene praticamente se l'è deselezionato l'interno e viene invece selezionato proprio il verde e questo è l'effetto remove e color che funziona come green screen nei programmi che abbiamo già visto come da vinci risolve il shortcut ultima cosa c'è questo interactive hotspot eliminiamolo che è piuttosto complicato faccio vedere come funziona se io lo trascino qua sul video qui cosa succede noi possiamo inserire un link al video però non è che lo possiamo inserire in un video che poi possiamo pubblicare su youtube lo possiamo inserire un link in un video solo se poi esportiamo questo video con il player di camtasia quindi possiamo inserire a un in un punto terminato il video possiamo inserire per esempio i minuti secondi e frame non ha una condizione corrente oppure possiamo inserirlo alla alla fine lasciamo di l'opzione di inserirlo alla fine possiamo quindi inserire un url qui incollarlo per esempio incolliamo l'url del mio sito si può aprire in una nuova scheda del browser oppure no si può mettere o meno click to continue in questo caso si mette in questo in questo modo e a questo punto possiamo se noi esportiamo questo video questo video alla fine potremmo cliccarci sopra e aprire questa pagina che abbiamo linkato però soltanto se noi lo esportiamo con il player di camtasia faccio vedere su export custom production new custom production ci diamo mp4 con smart player vedete avanti qui bisogna mettere la spunta di produrlo con il controller di camtasia quindi c'è la sua avanti chiamiamolo test link andiamo su fine e noi a questo punto esporteremo questo video e alla fine del video ci sarà questo questo link verso la pagina che abbiamo linkato ecco il video si è aperto automaticamente nella pagina possiamo riprodurlo questo è il player di cantasia alla fine ci sarà noi potremo cliccati sopra e aprire la pagina che abbiamo inserito come secondo me è poco utile però io ho fatto vedere come come completamento degli effetti visuali che ci sono su cantavia alla prossima volta